Ascolta Jeffrey, dobbiamo i caccianasi La nuova puntata prevede che dobbiamo utilizzare dei mezzi per trovare Alfredo Pagnoni Alfredo Pagnoni, chi possiamo utilizzare? C'è il cane, il cane da tartufo Ma il cane da tartufo sta seguendo le due donne Ma che scusa? George, George vieni qua Il cane da tartufo, ma scherzi questo è fantastico Ma se le persone le trova George? Le trova Alfredo Pagnoni, George, Alfredo Pagnoni George, hai capito Alfredo Pagnoni? George, basta, George, Alfredo Pagnoni Allora vai, parti, Alfredo Pagnoni, vai Alfredo Pagnoni, vai vai, vai sempre dritto, dove vai? Dove sta Alfredo, George, George, vai George, Alfredo ti ho detto, basta George, Alfredo, George, George George, George Alfredo Pagnoni, ci sei? Lo stai trovando, ci sei? L'ha trovato, l'ha trovato, l'hanno usato Aspetta, dove vai, dove vai Alfredo Pagnoni Alfredo Pagnoni, ci sei? L'ha trovato, l'ha trovato, eccolo qua Attenzione, Alfredo, è pescheria George, ma questo sa anche leggere Questo sa leggere e scrivere Ti meriti un sorso d'acqua Vai, i caccianasi colpiranno ancora Vai George, sei tutti noi